Ora, gli scambi, è avvenuto uno scambio tra la democrazia che ormai è all'omicino in questo paese e qualcosa per continuare e rubare tempo. Questo stanno rubando un anno di tempo, non so se se lo possono permettere un anno, e noi ce lo possiamo permettere come nazione, un anno di tempo, ma sta succedendo così.